La prossima settimana partiranno le bollette per l'acqua per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. È una lettura presunta, contemporaneamente da mercoledì 20 luglio l'addetto Paolo Del Piano inizierà la lettura reale di tutti i contatori nel comune di Berceto. Un'operazione che richiederà tutto il mese di luglio, di agosto e parte di settembre. Troviamo corretto leggere i contatori dell'acqua in questo periodo per poter parlare con più persone possibili e anche per poterle leggere il più possibile, visto che tutte le case, le seconde case, le case sparse nel comune di Berceto sono abitate. E quindi è bene avere anche un colloquio con il caricato del comune di Berceto. Sicuramente nel primo anno, in questi primi anni di gestione dell'acqua, in questi primi anni ci saranno qualche problema, però crediamo di poter dare tutte le informazioni necessarie, di raccogliere tutte quelle che possono essere degli errori, dei disguidi, delle operazioni non fatte bene, attraverso un ufficio che è aperto tutte le settimane al pubblico, anche durante i mesi delle letture, e al giovedì e al sabato. Al giovedì e anche al pomeriggio, dalle 15 alle 19. Voglio cogliere l'occasione per ribadire due numeri di telefono importanti. Uno per quello che riguarda il sistema idrico nel suo insieme, il funzionamento, che è il geometra Zanzucchi Pietro, che è incaricato di seguire questo servizio. È il suo unico incarico, anche se molto impegnativo e gravoso, però è dedicato solo al sistema idrico del comune di Berceto. Il suo numero di telefono è 348 65 63 659. Lui è sempre a disposizione, mi raccomando ai cittadini di avere rispetto anche dei suoi orari, delle sue giornate di riposo, quindi di chiamarlo solo per emergenze in orari che non siano d'ufficio. Negli orari di ufficio ovviamente può essere sempre chiamato. L'addetto invece a dare informazione, per fare nuovi contratti, per cambiare le intestazioni dei contatori, per seguire le letture, è Paolo Del Piano, che lo trovate in comune tutti i giorni, dalle 8 alle 13 e al giovedì e al lunedì anche dalle 15 alle 18. Tenete presente che domani inizia a leggere in centro del capoluogo i contatori e quindi in tutto questo periodo delle letture del piano sarà in ufficio solo nelle giornate di giovedì e sabato. Quindi è una grande avventura, è un servizio che ho molto piacere che sia ritornato al comune di Berceto, è stata una cosa molto faticosa, si richiede la collaborazione di tutti perché sono sempre più convinto che sia un grande vantaggio per i cittadini di Berceto essere ritornati in possesso della propria acqua, dei propri acquedotti e dei propri sistemi di depurazione. Sarà sempre più importante anche nei decenni futuri avere l'acqua a disposizione. Invito anche a non sprecarla perché è un bene prezioso e invito anche a utilizzarla nel migliore dei modi sapendo che sarà un bene sempre più prezioso.